ragazzi allora qua scimpanzeina pack non è andato malissimo come secondo nostro video 156 visualizzazioni siamo tornati su youtuber's life ragazzi sono contento che vi abbia fatto piacere sto gioco è vero che lo fanno tutti però alla fine è evidente che ognuno abbia il suo modo di farlo quindi potrebbe anche far piacere guardarne un casino perché no ho imparato tante cose grazie per i suggerimenti ad esempio ho imparato che noi qua non abbiamo un cazzo di gioco che sia di tendenza questa qua dovrebbe essere ecco infatti la tendenza del gioco anche suggerimenti sull'editing sono contento ragazzi perché a dirvela tutta io avevo usurdito dicendo che è una cazzata però alla fine è divertente cioè non boh passa via il tempo bene che è che succede oddio deve mangiare ma dai ma devi cliccare sempre sulla porta ha detto vai in cucina invece clicca sulla porta no imbecile questo qua va sulla porta per fare tutto se devi andare in bagno vai sulla porta della stanza devi mangiare vai sulla porta della stanza viene la tua ragazza dovete fare i tozzoni in verticale sulla porta della stanza dicevo mi butterei sul league of giants che sembra quello più recente dai va bene compra poi volevo guardare ragazzi se possiamo fare già no però siamo siamo accorto in realtà siamo accorto di video 49 iscritti 201 visualizzazioni totali bomba dai proviamo subito il nuovo gioco prendilo 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 new gaming video il nuovo gioco dov'è eccolo league of giants dai che di super mega tendenza start video oh gameplay start video qua abbiamo sempre la solita roba perché non abbiamo comprato upgrade che c'è che cos'è sta roba allora league of giants gameplay 1 no ovviamente dobbiamo mettere un titolo di quelli league of giants che roba sarà tipo sparato mi sembra la copertina di battlefield 3 madonna facciamo così league of giants 500 kill in un minuto riportiamo un po la sfida su call of duty che girava qualche tempo fa vai vai fallo fallo ricordiamoci anche di studiare perché poi se no qua allora attenzione qua questa suggerita mi avete detto metti i cosi suggeriti tipo questo era giusto adesso mi suggerirebbe questo ma non ho più energia però dovremmo già aver fatto abbastanza bene con uno vediamo se ho imparato qualcosina in più grazie anche i vostri suggerimenti perché chiaramente io l'ho affrontato un po veramente male sto giochino proprio così in allegria continuo a divertirmi a farlo divertente però sarebbe bello anche progredire perché qua c'è da andare avanti c'è da vivere da soli c'è da farsi una ragazza feste giusto sì mi pare di aver visto queste cose quindi presumibilmente non ci annoieremo neanche a fare sempre le stesse cose a ridaglie mo questo ricomincia a registrare due ore voglio vedere se sta cosa ha una fine intanto cambia la luce cambiano le stagioni viene la neve cambiano le epoche ritornano i dinosauri ma lui sta ancora lì che regista ancora basta tutte le volte basta fanculo perché così piccolo ma forse per l'energia cioè se aggiungo questo qua che è verde come questo il video va meglio se io non ho capito questa cosa rendering points allora vaffanculo ti metto anche questo tanto non credo di perdere rendering points vai andiamo league of giants 500 kg in un minuto e non va male vedete performance e salita di brutto anche lo script anche il sound ci siamo comprati no ci siamo comprati un microfono un cazzo al massimo abbiamo appeso qualche scatolo di uovo sui muri dai va bene il miglior video finora pubblica il video speriamo che il canale si riprenda perché stavano scendendo gli iscritti eh il rendering sta andando e allora nel mentre si fa l'upload dormirei perché questo sta morendo poi se no tanto fra un po' arriva la mamma sicura alle 6 di mattina eh devi andare a scuola romperi coglioni ecco league of giants si è caricato vediamo i commenti soliti questa stava ancora aspettando il primo video guarda che è il terzo divertentissimo ah ma sono sempre uguali league of giants è il miglior gioco a cui abbia mai giocato però sta sto strano ma brand sarà un uomo con sta fascetta rossa ma battene a fanculo chi ha editato sto video fa cagare ma ti sei visto e la ragazzi sta andando a manetta guardate le visual allora sta cosa della tendenza conta a bomba nu vai a studiare dai che il 31 ho l'esame non sono preparatissimo possiamo vederlo da qui ecco adesso un'altra bottarella di studio ci sta che sennò poi la mamma non si fida di noi ci fa chiudere bottega ma se tu non studi non ti faccio fare lo youtuber e invece se noi le dimostriamo che siamo bravi ad esempio scioppiamo un po vediamo questi 40 dollari dobbiamo ricordarci anche dei lavoretti e questo chi sei ma che ti ridi guarda che ti ha chiesto una cosa seria lei dice voglio fare un video di me che gioco ma non sono capace puoi farlo tu al posto mio ma era una bella ragazza si è diventata una vecchia vattene ma è mia mamma 545 iscritti ma che è che è arrivato a il gioco che mi ha mandato lei questa praticamente è una fan che mi ha mandato il gioco via posta e me l'ha consigliato detto no facci un video che che è figo ma perché il mio pc va a fuoco repair 20 dollari mortacci vostra 20 dollari non è tantissimo c'era magari un pezzo di ricambio certo se il pc fa quelle scintille è carino il grande puffo che che sta e fa la non toccare la mia roba a posto oddio ragazzi quante visualizzazioni ha fatto quel video bestia nu sei veramente bravo avrei dovuto prendere spunto da da dal finto nu ah ecco bisogna farlo prima di un certo giorno questo sto sto gioco che mi ha mandato la tipa perché ho 42 dollari e non scusa non c'erano i soldi che voi hai raggiunto il livello 2 caspita si va bene puoi sbloccare nuove robe adesso ti dà le palle cos'è che devo upgradeare qua io mi butterei ragazzi su un bel microfono nuovo che è bello e mi rimangono tipo 20 dollari cosa ci prendo con 20 dollari lo schifo ci prendo un bel takens black mouse ma che me frega vai compra ecco sono rimasto con 8 dollari se ritorna la tipa non io posso offrire manco mi tocca portare al mcdonald fare scorta di 20 mila hamburger e basta proprio come i barboni eccolo oh è arrivato il nuovo microfono che ha anche il mouse arrivano separati ma insomma complimenti per l'ottimizzazione delle specchia eccola che arriva no è passata via choose game vediamo che mi ha mandato statizia questo era giusto sì perché gli altri sono i nostri bruttissimi giochi dai proviamo a vedere di far felice quella quella bella ragazza che magari poi attenzione gameplay per una grande fan ok bene quindi devo usare le carte che mi dice lui anche qui questa due buono e mo basta ho finito i punti però avrei questa ma non va bene ho imparato questa cosa grazie a voi ecco questo è un po meglio che strano allora vediamo se riusciamo a trovare un ordine di mai cioè proprio ma perché vengono così scombinati sti cosi così è malissimo vediamo con più verdi possibile mi sa che è così c'è un solo rosso e insomma quindi potrebbe andare mettiamo questi due e andiamo dai questo non dovrebbe essere malissimo video quality zero ma no ma così questa non è che si arrabbia stadi muori di fame bisogna studiare voglio prendere un bel voto così voglio migliorare sta mamma sopporto più adesso sei stato bravo puoi anche mangiare al ritorno da scuola è che cazzo perfetto ragazzi adesso visto che abbiamo fatto ecco vediamo ok a questo è piaciuto chiesto deficiente ma se non sai registrare non dovresti fare lo youtuber se non hai una faccia guardabile non dovresti farti le foto eccola mamma dirò ai miei amici quanto sei bravo e questo ride ma invece di ride ma dico no new goal available rete incredibile è alla convention tipo una riunione anche questo video lo sta andando malissimo ragazzi siamo arrivati quasi a 800 iscritti più di mille visualizzazioni anche questo un po di dollari che vengono a casa fortunatamente qua youtube piuttosto generoso devo dire vediamo la preparazione dell'esame com'è allora preparation for the test non è malissimo io gli darei un'altra botta così siamo sicuri di passarlo e di fare un buon lavoro e poterci anche dedicare la preparazione dell'evento e far crescere il nostro canale che sta arrivando a mille iscritti attenzione ragazzi attenzione ragazzi speciale mille iscritti subito no subito no perché questo sta a morire dormi prima e poi lo speciale mille iscritti 27 sarà 28 il 31 mi pare ci sia l'esame tutto secondo i piani ragazzi eh facciamo così ragazzi guardate league of giants funny montage speciale 1k dai me la sento buona registra cioè registra in realtà monta i funny moments anche se hai fatto solo un video questo bravo performance 2 poi chi è questo vai ancora metti pure un altro bravo nu ah ma adesso ho capito quando tu gli metti la carta va avanti per quello che serve l'energia finita l'energia non va più avanti e quindi devi stoppare il video adesso ho capito quindi fine andiamo level up grazie ho capito ragazzi uno e due sono perfetti così e questo però lo metterai all'inizio perché gli si imbecca quello la qua mettiamo questi process dovrebbe essere figo sto video perché video quality zero madonna madonna forse devo upgradeare il pc vabbè ma come almost nothing ma se sono preparato anche abbastanza bene ma vaffanculo che mamma di merda voglio andarmene a vivere da solo ragazzi direi che sullo speciale mille iscritti possiamo finire anche questo secondo appuntamento qua con youtubers life che si sta rivelando abbastanza divertente io neanche me lo aspettavo voi ragazzi avete visto che oggi ho capito diverse cose lo stiamo affrontando anche benino cioè potremmo andare avanti se ci va voi fatemi sapere come al solito nei commenti sapere ho detto perché mi stava cascando la cuffia fatemi sapere nei commenti come al solito se avete altri suggerimenti ben venga e due non mi piace nello speciale mille iscritti mamma mia la prossima volta cosa vi combino ciao ragazzi mi raccomando descrizione commenti tutto quello che volete un mega abbraccio da nu e alla prossima ciao 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 ciao